Come nell'attese è arrivato il maltempo sul nord Italia, con l'autunno che irrompe anche nel senso climatico proprio nel suo giorno di esordio. Infatti ci sono in atto piogge temporali anche di forte intensità, ma il dato saliente è soprattutto il ritorno della neve a quote medie sulle Alpi, a tratti fin sotto i 1.500-1.600 metri, particolarmente interessate dalle nevicate il comparto retico e l'Alto Adige. Questa è la webcam da Livigno, sotto una fitta nevicata, ma anche a Madesimo la neve è tornata a farsi vedere proprio in queste ore e passando all'Alto Adige, buffere di neve si stanno verificando oltre 1.800-2.000 metri, qui siamo nella zona della Val Gardena e un po' più in basso, sempre in zona di Salva di Val Gardena, la pioggia sta lasciando il posto alla neve a quote anche intorno ai 1.500-1.600 metri. Aggiornamenti in tempo reale sulle previsioni non solo sul sito trabimetto.com, ma anche sull'app gratuita per tablet e smartphone.